Il Cotugno avrà presso una nuova palestra. La provincia ha infatti affidato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell'opera, progetto che rientra in uno molto più ampio che l'amministrazione provinciale e sta portando avanti su alcuni campi polivalenti. Gli spazi del Cotugno saranno redistribuiti. Abbiamo affidato l'incarico di progettazione di fattibilità per una nuova palestra al liceo Cotugno dell'Aquila, un istituto che ospita 1.100 studenti, un intervento che ammonta 2.600.000 euro che verrà realizzato sull'area scoperta, ovvero sul campetto esterno. Un intervento che rientra nel più ampio programma, che prevede altresì una dotazione dello stesso genere sull'ITIS da Osta e sull'Ipsia Sarra da Vinci. Non è l'unica novità che riguarda la provincia perché sta partendo anche il progetto di recupero di Villa Gioia, che sarà sede della Polizia Provinciale, non solo, un complesso importante di proprietà della provincia dell'Aquila. Il complesso di Villa Gioia, 5 edifici dalleggiati dal Sisma, per il quale abbiamo dato un incarico di progettazione di fattibilità, che prevede la devozione di 4 colpi di fabbrica, uno andrà in ristrutturazione, per reinsediare il corpo di polizia provinciale, un intervento da 9 milioni di euro che restituirà alle città una parte importante del contesto urbano, ma anche presidi che daranno anche vitalità al sistema urbano dell'Aquila.